Alla fermana Sprecona serve la furbata di Degano che batte da 35 metri la punizione del 2 a 1 senza chiamare la distanza e serve anche un pizzico di fortuna perché la palla calciata dall'attaccante trova la deviazione spiazzante di un difensore del Chieti. È la prima vittoria dei Canarini che pure con 12 palle gol 12 rischiano di pareggiarla invece gli abruzzesi ambiziosi per autoproclamazione giocano sì e no una mezz'oretta e alla fine devono ingoiare il primo dispiacere. Permane in baglia bianca Iaconi anche stavolta è senza urbinati e fa esordire l'ander Traini. Il Chieti che recupera dopo la squalifica Dos Santos lascia a casa il direttore tecnico Pluto Aldair e almeno nel primo tempo anche la difesa. Al quarto Cremona spreca tu per tu con Diuff. All'ottavo la punta giallo-blu si ripete in piena area di rigore. Poi tocca a Degano che prima si esibisce in una delle solite punizioni poi perde l'attimo. Lo imita poco dopo Cremona. L'attaccante si fa perdonare al 38esimo con la sponda di testa per Omiccioli. Centrocampista col turbante per lo scontro in avvio con Dos Santos batte un rigore in movimento. 1-0 Fermana. Prima dell'intervallo Cremona l'occasione per raddoppiare. Palo. Sempre Fermana inizia ripresa col contropiede sciupato da Cremona e Degano. Ronci intanto passa dal 3-4-3 al 4-4-2 con gli ingressi di Ricucci ed Esposito per De Clemente e Macedo. Iaconi risponde con Tascini per Cremona ma i suoi calano di brutto. Alla flessione fisica dei Canarini sommate l'episodio da cui nasce un'altra partita. La palla di Varone alzata in angolo da Olzac al 23esimo. A ruota l'incrocio dei pali centrato da Suriano limitato nel primo tempo dalla marcatura uomo di Misin. Sempre Suriano metallato di testa ma il pari ormai è maturo. L'autografa Dos Santos al 28esimo con una stafilata nell'angolino in girata. Il Chieti potrebbe ribaltare la Fermana subito dopo anche se l'azione è viziata da un fallo sugli otti. Poi risale in cattedra De Gano che fa le prove generali del gol su punizione e dopo un attimo lo inventa con il piazzato del 2-1. Seconda rete stagionale per l'ex civitanovese. Finita ma che Tascini sciala davanti a Diuff. Fa lo stesso De Gano quindi il Chieti si rianima con la traversa pizzicata da Zanetti al 35esimo. Arriva anche il secondo giallo per Terrenzio. Fermana in dieci nel recupero. Brividi sulla punizione di Dos Santos. Sipario sulla seconda opportunità fallita da Tascini.